E' single, è bello, è entrato in questa casa e qui dentro deve restare. Perché mi hai chiuso il computer in faccia ieri? Veramente non te l'ho chiuso in faccia, ma su altre parti del corpo e non del tuo. Ma che ti è saltato in mente? Non ti volevo soltanto far vedere Luca.